Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Se nella prima parte abbiamo affrontato la parte normativa che riguarda gli incentivi nel settore delle costruzioni, ci concentreremo ora di più sulle questioni a livello pratico. Vedremo quindi le peculiarità di questi incentivi, analizzeremo la durata, qual è anche il motore, insomma il cuore di questo intervento normativo così importante. Lo faremo sempre con i nostri ospiti che sono intervenuti anche nella prima parte di questa puntata di Doppio Binario e che saluto e che sono l'avvocato Fulvio Di Domenico, socio di Genesis Avvocati. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno. Stefano Morbio, geometra e socio e amministratore unico di Morbio Costruzioni. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. Ecco, avvocato, io partirei da lei e le chiedo anzitutto, insomma, come sottolineava prima, questo bonus è davvero importante per il settore delle costruzioni e le chiedo però qual è la durata effettiva di questi incentivi perché chiaramente dall'altra parte costituiscono un aggravio sul bilancio dello Stato. Prego. Il sistema degli incentivi che nasce ormai dal 2013 con i provenienti di maggio di quest'anno ha avuto un ampliamento importantissimo perché è stato varato il 110%. Questo 110% conti infatti dalla regione di Stato vuol dire circa 15 miliardi di costo per l'erario. Quindi se da un lato è immaginabile che questo sistema di incentivi duri nel tempo è più difficile immaginare che possa durare con questa magnitudo che conosciamo in questo momento che certamente ha nelle intenzioni di questo governo quello di dare un shock positivo alla nostra economia. Da qui quindi l'ampiezza dello stesso e probabilmente ha anche una durata limitata perché stiamo parlando di incentivi che si concludono il 31 dicembre del 2021. Questo chiaramente accompagnato dalle problematiche dell'emergenza sanitaria che tutti noi conosciamo può creare delle difficoltà ma è anche comprensibile che quello che si vuole fare è quello di concentrarsi imprese da un lato e committenti dall'altro a fare presto, bene, qualcosa che poi si risolva in un miglioramento della nostra condizione economica. Quindi poco più di un anno di tempo. Poco più di un anno di tempo, esatto. Parliamo di incentivi che riguardano sia la parte di risparmio energetico, fondamentalmente stiamo parlando di quelle che sono gli involucri degli edifici e stiamo parlando del rifacimento poi dei sistemi di riscaldamento e riaffrescamento degli immobili. Questo vale sia per la parte condominiale sia per le parti unifamiliari. È un sistema di incentivi che premia soprattutto il mondo residenziale più che il mondo industriale o commerciale da un punto di vista immobiliare e che accompagna al suo interno anche la possibilità di quelli che i legislatori chiamano interventi trainati. Nel momento in cui io faccio un intervento di questa importanza, quindi sto creando l'isolamento termico dell'edificio, sto rifacendo l'impianto di riscaldamento, se faccio alcuni altri interventi come ad esempio la sostituzione degli infissi del mio appartamento, anche in questo caso accedo al 110%, se lo facessi avulso da questo tipo di intervento non avrei questo tipo di incentivo, lo avrei in misura inferiore, se lo faccio nel contesto di questo progetto più complessivo a quel punto accedo al 110% e stiamo parlando di un credito di imposta che si può regolare in 5 anni. Qual è l'ulteriore peculiarità di questo sistema di incentivi? È quello che viene chiamato ovvero sia normalmente un'impresa che esegue un lavoro, emette una fattura e riceve un pagamento. Anche col vecchio sistema di incentivi questo rimaneva ovviamente mutato, io che sostenevo la spesa potevo poi portare nella mia dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta e beneficiare delle trazioni a seconda della tipologia di lavoro. Questa nuova normativa invece permette che cosa? Di scambiare direttamente fra il committente dell'opera e l'impresa, questo credito di imposta. Quindi io in presa emetto la mia fattura e ricevo immediatamente in cambio questo credito di imposta che a mia volta posso ricevere a soggetti terzi, che possono essere altre imprese, possono essere banche, possono essere assicurazioni. Questo effettivamente è il fulcro, il volano e la potenzialità maggiore di questo sistema, perché evidentemente se noi chiedessimo oggi ai condomini anche in questa condizione economica di sostenere spese così importanti di rifacimento di facciate, di rifacimento di riscaldamenti o chiedessimo alle imprese di sostenere con i propri soldi questo tipo di interventi, probabilmente nulla di tutto questo si realizzerebbe. Quindi l'impresa ha un vantaggio fiscale importante, che può monetizzare e questa poi diventa la differenza, quindi le consente di prendere questo credito dal committente, ritrasferirlo a sua volta, ricevere in cambio del denaro e affrontare nuovi lavori o completare i lavori già in corso. Questo è veramente il cuore, l'elemento veramente quasi geniale che è stato inserito all'interno di questa normativa. Ecco, Morbio, mi rivolgo a lei che è amministratore unico di un'impresa di costruzione e le chiedo anche qual è, lei appunto ha a che fare come clientela sia con appunto il residente privato e l'individuo sia con proprio i condomini, cioè il condominio intero. Le chiedo quali sono le criticità riferendosi a questi due tipi di rapporti. Grazie. Allora, possiamo dire che recentemente abbiamo avuto moltissime richieste per eseguire preventivazioni su lavori sia come privati che su condomini. Le richieste dei privati sono più semplici perché il lavoro da eseguire sulla villa singola è chiaramente, c'è un rapporto con la committenza e con il tecnico incaricato per eseguire la certificazione energetica e il progetto per migliorare le due classi sismiche che è quello che serve per poter accedere ai bonus per quanto riguarda la parte energetica. Quindi si sviluppa in un tempo relativamente inferiore. Mentre invece con il condomino a volte le richieste arrivano dagli amministratori del condominio, fortunatamente qualche amministratore con cui abbiamo già discusso, li abbiamo visti preparati quindi sul pezzo per quanto riguarda la norma, solo che mettere insieme tutti i condomini, quindi in un momento tra l'altro di emergenza sanitaria come questa è difficile anche fisicamente fare un'assemblea, quindi i tempi si allungano e quindi si rischia, avendo un termine molto corto perché il 31 dicembre 2021 per noi che facciamo costruzioni non è un tempo lungo, è un tempo relativamente breve. Corriamo il rischio di non poter effettuare alcuni interventi e quindi è un peccato perché la norma in effetti è stata studiata bene, l'unica problematica, se così vogliamo chiamarla, è il tempo. Certo, il tempo in effetti è molto breve. Avvocato, le chiedo eventuali ulteriori criticità dal punto di vista normativo? Allora, questa normativa si accompagna a tutto un insieme di controlli che direi anche comprensibili, giustamente il legislatore mettendo in campo un sistema che di fatto permette da un lato al condominio piuttosto al proprietario, dall'altro all'impresa di non sostenere alcun costo perché viene tutto finanziato attraverso il credo d'imposta, ha voluto imporre una serie di controlli per accertarsi che poi quei benefici ricercati, cioè di risparmio energetico e adeguamento sismico, si realizzino. E quindi la delicatezza oggi di questa normativa è che mette in campo alcune professionalità che prima non erano richieste, come ad esempio i termotecnici, ovvero sia coloro i quali prima di affrontare un progetto devono verificare qual è la condizione di consumo energetico dell'edificio e poi successivamente devono certificare qual è il miglioramento energetico acquisito. L'assenza di questo tipo di asseverazioni pregiudica l'acquisizione del credo d'imposta. Lo stesso vale per gli interventi di adeguamento sismico, ho bisogno di un ingegnere strutturista che documenta all'interno del progetto quali sono gli interventi che permetteranno all'edificio di migliorare da un punto di vista di tenuta sismica e che alla fine del processo certifichi che questo effettivamente sia avvenuto. Non ultimo l'intervento dei commercialisti e dei rivisori dei conti che sono chiamati affinché il famoso credo d'imposta possa essere trasferito ad applicare il visto di conformità, ovvero sia ad accertare che tutti i documenti che la norma richiede vi siano effettivamente ricorrono, senza il quale il credo d'imposta non può essere trasferito dal committente dell'opera all'impresa e successivamente dall'impresa ad altri soggetti. Quindi uso un termine gergale, la tempistica che si accompagna a questa norma è una tempistica importante e che quindi va riguardata con una certa attenzione e coinvolge figure professionali che pur se già presenti, perché ovviamente il termotecnico normalmente è un geometro, un architetto, un ingegnere e lo strutturista ha la stessa cosa, non avevano queste peculiarità professionali che oggi invece sono richieste affinché tutto questo meccanismo effettivamente funzioni. Certo, Morbio torno da lei per un'ultima domanda, le chiedo alcune peculiarità tecniche che riguardano gli interventi che abbiamo definito prima trainanti. Allora, gli interventi trainanti, il primo, il più facile, quello che sarà più gettonato tra gli interventi è il cappotto. Il cappotto dà la possibilità di accedere al bonus da 110, quindi cappotto passando, se passiamo le due classi energetiche possiamo accedere al bonus, quindi trainare altri lavori. Il cappotto termico? Il cappotto termico sulle superficie oppacche, deve essere almeno il 25% della superficie oppacche. questo cappotto traina altri lavori, altri lavori che sono sempre inerenti all'efficientamento energetico, quindi traina caldaia, può essere cambiata la caldaia di condessazione, la pompa di calore o i serramenti. Quindi questi per me sono i lavori facili, sono probabilmente quei lavori che si riuscirà a fare nel 2021 perché richiedono un'unità burocratico più corto. Purtroppo il peccato è che da detto ai lavori l'opportunità, la norma lo prevede, prevede anche la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato con lo stesso volume, quindi una ristrutturazione più pesante che potrebbe creare un lavoro diverso, ovvero non solo un lavoro specializzato da maestranze tipo cappottisti, ponteggisti, ma potrebbe creare un lavoro a tutto l'indotto dell'impresa di costruzioni, quindi sfruttando gli stessi contributi con un tempo maggiore potrebbe dare un'opportunità grande al paese per poter ricostruire edifici non utilizzando altro terreno vergine ma riqualificando zone già edificate con edifici magari anche più belli e chiaramente energicamente più performanti. Certo, torniamo al problema originale che è quello del tempo, ma come sappiamo e come è successo in altre occasioni c'è sempre tempo tra virgolette per una proroga e purtroppo la proroga è avvenuta per la situazione emergenziale, questo è uno dei pochi provvedimenti che effettivamente sono strutturali da parte del governo e non tra virgolette sempre tappabucchi, per cui speriamo che ci sia più tempo. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio i nostri ospiti Fulvio Di Domenico, socio di Genesi di Avvocati, grazie, e Stefano Morbio, socio amministratore unico di Morbio Costruzioni, grazie anche a lei. Grazie anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario. Grazie a tutti.